Il 2024 della Delfest si aprirà domenica prossima con il derby del Palalongo di Capriglia contro la Virtus Arichi Salerno. L'obiettivo del team bianco-verde è chiaro di partire dopo la pausa natalizia con una vittoria per dare continuità al successo scacciacrisi conquistato contro la Gemma Montecatini che ha interrutto la serie di risultati negativi. Crotti dovrà sicuramente rinunciare a Caridà che domani si sottoporrà a un intervento di rimozione della borsa olecranica attraverso una piccola incisione. Almeno 15 giorni di stop per la Guardia Romana che da settimane soffre di borsite e non ha visto il parchi contro Montecatini e ha giocato appena 5 minuti nel confronto perso in trasferta a Crema. Nevola sta dragando il terreno e sta valutando diversi profili prima di scichere il giocatore giusto che possa aiutare la Delfest a recuperare posizioni in classifica dopo una prima parte di campionato decisamente sotto tono. In quest'ottica il derby contro Salerno vale tantissimo e non va preso sotto gamba. La Virtus in difficoltà naviga in penultima posizione a 47 con tre punti di penalizzazione ma cerca di rinunciarsi proprio nella sfida contro la Delfest che la società blaugrana ha definito sui social speciale, decisamente speciale.